Bu, io te lo dico, i Lorares erano in posizioni in cui gli ultimi erano sempre, ma ci hanno slegliato di 40 kill, cioè che è normale che vincono, amen, cioè l'altra volta contro UFL e avevamo fatto lo stesso che l'avamo perso, quello vuol dire che eravamo down, adesso come fa a vincere quando uno fa 40, 39, 29, cioè che devi fa, il tempo che torno un flag ce ne stanno, io quando arrivo al centro, io quando vado al centro ora mi fermo e guardo il lato sinistro col ball, giochiamo molto per la difesa, giochiamo molto per la difesa raga, no giochiamo io vi holungato il flank per non fargli via la palla, sì appunto ma giudiamo non lo so stai i presidio, man c'è perdono! fatto, fatto fatto, un po' qui Гр Episode 0 leo fatti l'ultimo per favore ammazzano è buon shot è ferito la palla di poteva buttare un secondo mi ha buttato ma secondo te che ho fatto ciò non sapevo che era successo c'è il 3 sulla palla 3 sulla palla 3 sulla palla fatti due dai ammazzate in mida venite 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 non è dal colpo, mida la palla è mida ho preso al palo no 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 stavo lanciando via il drone in mano nemica ok ok c'è uno 20 c'è uno 20 c'è uno 20 so che fare dai 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 ragazzi io li sto sleghiando in continuazione bravi bravi ha flencato fatto 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 la palla ha lasciato un altro vicino passami passami due palla non li ho fatti lanciare l'hanno buttato a terra l'hanno buttato a terra sono due uno l'ho finito assist bravi bravi due l'ultima in vetri in vetri non ha preso la palla e va verso lì la palla non la far lanciare prendetela prendetela e venite venite non lo vedo ne ho lo prendo io finì qua finì si sono stanatissimo eh vabbè ho fatto da uno non era un dacu cazzo sono due sono due ragazzi sono solo due sono due la tira da un sbagliato sbagliato prendetelo prendi l'altro sbagliato che lei si lancia la palla l'ho fatto non è che... fatti due mi prego let's go baby tirala la tiro fuori si un altro metri fatto un altro metri l'ultimo ce l'uno fatto rinascono metri no rega ma perchè perchè ho dovuto farlo per ucciderlo se no non lo ammazzava nessuno va bene certo si ok ho sbagliato dai dai fatto l'ha tirata sopra si prendiamo il drone voi sto per xl le hanno passate le hanno passate sono male ma non mi vuole nemmeno vengono da mid c'era uno sotto fatto da mid sto facendo spawn kill uno è passato da destra uno l'ho preso l'altro tre morti ce l'ho dietro l'altro aspetta aspetta un secondo aspetta un attimo ok avanza 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 intanto no uno è sul punto uno è sul punto fermo sotto il punto no si stanno due in base loro due in base loro due in base loro un smg una r la fattiamo la battaglia sopra 20 sopra 20 pensavo l'avevi ferito smesso scusa cazzo che sfiga la madonna ma non morire sono due da noi sono due da noi passa 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 ferito leo dai la passata da lui leo qua leo lancio leo leo ti prego non le ha fatti ti finisce il tempo che culo non è culo guarda quante kill fai bisogna farla anche noi bisogna farla anche noi se fai la quadrupla fa kill spawn me ne frega un cazzo non ho fatto la quadrupla non ho fatto il suo kill eh no io ho fatto la triple e non l'ho dunkata perché l'ultimo era one shot e non mi ha ucciso potevo anche dunkarla io D gliela par�� anronceli fra tir站 roma uno da noi uno è da noi eccolo eccolo prego oh wow regala da noi eh bello tira la fuori per favore tira la fuori tira la fuori tira la fuori tira la fuori l'ho fatto c'è l'ho c'è l'ho stop ehhh condizionatori e andati dietro passavo tutto dietro passavo tutto dietro guarda frank attenti uno dentro dietro preso due morti let's go tre morti la prende la prende ma con mito la fai da 2 la fai da 2 bravo 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 bravi bravi fate rilay fate rilay devi fare rilay per forza eh si si lo faccio lo faccio lo faccio oh sono tutti in flag sono tre in flag tira la tira la tira nooo che cavo bravo bravo tutti la tripla oh che cazzo i rilay passa verde eh passa verde avanti 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 sono venuti dietro di me sono venuti sulla bomba finiti da sottrendre aiutatemi eh aspetta aspetta se ne rimano un secondo passa vieni mid vieni mid vieni mid vieni mid ho fatto mid ho tienito la balla nooo vieni con la balla e sinistra dovete anche alla per forza mamma mia faccia godo a un altro somma c'è adesso non ho visto una peccata lo faccio io la porta verde la porta verde lo sleio dai nessuna palla nessuna palla non è solo un atto anche sotto 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 la butto, la butto la butto tira da fuori bravo qualcuno flanca qualcuno flanchi ti copro vai 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 salta salta un minuto un minuto continuiamo così da uno un'altra testa un'altra testa uno glass uno glass mi ero rubata oh mio vabbè quanto sono forte ragazzi uno glass 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 bravi 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 filippo quella cosa che mi hai fatto mettere è la cosa più sgrava del mondo è allucinante bravi scelto goodbye bravi 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 roscine